Le cabine di verniciatura secco CVS3000 sono composte da pannelli modulari in acciaio zincato e studiate per essere montate con facilità e rapidità. Sono dotate di sistema doppia filtrazione AndreeAe, formato da cartoni a doppio labirinto. Dispongono inoltre della tecnologia Total Filter che permette di filtrare l'aria al 100%. Comprensive di quadro comandi elettrico e filtri in fibra di vetro pain stop. Le cabine di verniciatura CVS3000 monoblocco sono disponibili in pronta consegna nel nostro showroom di Agratebrianza via Salvo d'Acquisto 52.